Gli uomini sono tutti uguali, non c'è bisogno che lo diciamo noi, lo ha detto una persona di fronte alla quale ci si fa il segno della croce, lo hanno sancito le convenzioni di tutte le società internazionali, lo dice la nostra Costituzione. Ogni uomo è uguale all'altro, cioè ogni uomo deve godere dagli stessi diritti e dagli stessi doveri, perciò anche quelli che in maniera sprezzante continuiamo a chiamare clandestini o immigrati o extracomunitari che dir si voglia, come uomini sono uguali a noi, hanno diritto ai nostri privilegi, alle nostre difese umanitarie e devono sottostare anche ai nostri doveri, alle regole della nostra società, sono uguali. Se proprio vogliamo addirittura puntualizzare, diciamo che avrebbero anche qualche piccolo diritto in più rispetto a noi, il diritto ad essere lasciati in pace. Chi attraversa il mare lasciando i propri affetti dall'altra parte, sapendo di andare incontro alla morte, sapendo di andare incontro ad un futuro che è roseo soltanto nei sogni, beh perché scappa? Per una cosa molto semplice, per una ragione semplicissima, scappa da una realtà che è ancora peggiore di quella che va ad affrontare, è ancora peggiore della morte. Allora fosse solo per questo e non anche per la dichiarazione universale dei diritti umani datata a 40.000, 1948, dovremmo portare a queste persone il massimo rispetto, dovremmo dare ad essi tutto il nostro affetto. Sappiamo che non tutti la pensano così, Salvini, il leader della Lega li affogherebbe, li mitraglierebbe sulle loro barche. Ma parliamo di Salvini, parliamo della Lega. Non si può accettare che anche un pugliese, per giunta candidato alla guida di una regione come la Puglia, regione che si è candidata al Nobel per l'accoglienza, dica di essere d'accordo con Salvini. Certo non per ammazzare i clandestini, ma, dice Emiliano, perché lo Stato non dia ai clandestini più di quello che dà agli italiani. Allora vorremmo chiedere a Michele Emiliano, ma che cosa dà lo Stato ai clandestini di quello che già non dà agli italiani? Che gli dà ai clandestini? Lo stipendio d'oro? Gli dà il posto alla ASL? Gli dà la prima fila al teatro? Gli dà le vacanze al mare? Che cosa gli dà? Se non un tozzo di pane ed una bottiglia d'acqua, un viaggio in pullman fino al centro di accoglienza ed una permanenza da carcerato fino alla fuga? Se sa di altro, Emiliano lo dica, saremo felici allora di diventare clandestini, anche noi. Ma forse Emiliano non sa che nella sua città, Bari, centinaia di clandestini vivono, sì, a spese del comune, a spese della collettività, ma in una tendopoli alla quale non ci si può nemmeno avvicinare per il cattivo odore che emana. Questo lo Stato e il comune di Bari riescono a dare agli immigrati. Se è più di quello che ricevono gli italiani e i baresi, o Emiliano vive in un'altra nazione o non conosce la sua. O forse, per prender voti, anche da Salvini, dice le sue stesse fesserie.